Che tipo di partita è stata? Sì, l'avete visto tutti. Primo tempo un po' particolare, l'avevamo preparata in un certo modo. Loro mi sono persi una buonissima squadra che è venuta qua comunque con la giusta personalità. Poi al secondo tempo il mister ci ha chiesto di fare altro, ci siamo messi in un altro modo e penso che sia stata la mossa giusta, la mossa migliore. Fortunatamente dopo abbiamo trovato il gol e poi c'è stato il loro pareggio al 75esimo che poteva tagliarci le gambe, invece comunque penso che la squadra si sia vista, ci siamo di nuovo uniti e abbiamo trovato il gol della vittoria. Che cosa significa per te questo gol? No, ma è normale per un attaccante fare gol è tanto importante, però quando si vince penso che sia la cosa che conta più di tutto, è mai come quest'anno, credetemi, non lo dico tanto per poi. È normale, anche domenica scorso ho sbagliato il rigore, tra l'altro avevo chiesto io a Moscati e di farmelo tirare, un ringrazio, è un po' andata male per un attaccante, non è bello sbagliare il rigore, però la cosa importante sono i tre punti e penso che nelle ultime settimane stiamo dimostrando di essere una squadra e speriamo di continuare così. A chi dedichi questa rete? Questa rete la dedico a mio zio che non è stato tanto bene in questi due o tre giorni, e quindi è per lui.